Raga è la terza e ultima volta che sto cercando di fare questo video ma non ci riesco Quindi voglio... dai raga ci dobbiamo arrivare almeno 5 like per favore E la terza volta Devo pure togliere la webcam e rimetterla Bello Oh finalmente Dai mi piace il disco un po' 3 ore C'è un video raga che dura 3 ore Ma su servizio Ma su servizio dura 3 ore No, devi scoprire che 3 ore di video dei bambini non li posso sopportare Cioè ma raga qua durano tutte delle ore Scusate ragazzi Se abbia la gente qui di Marco Baccaribeno di questo nuovo video Di Di Beh ci riesco adesso veramente Di la prova non di dire challenge e quel bambino era Estremamente imputato Cosa ha visto ha visto ha visto Ha visto un futuro Ha visto cosa ha visto Slender ma cos'è Non ho capito Magari devo metterlo per forza Comite sempre in cinese Mentre Nooo Oh Oh Is that the kitty? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ora guardiamo questi video più divertenti sui segnali. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.